Macchinisti, fuochisti, uomini di fatica, dove siete, dove siete? Oh porca miseria, buonasera, buonasera, buonasera a tutti voi, buonasera Oh ma che bella maggiorata fisica, ci faccia vedere Maggiorata soprattutto Mamma mia Era da tanto tempo che non venivo a Roma, io sono stato tanto tempo a Napoli e sono venuto a Roma Comunque è un piacere, è un piacere innanzitutto È un piacere assolutamente nostro ed è un piacere soprattutto del napoletanissimo Gianni Turco Quindi io ti lascio lo studio, fai tu Vi dedico una canzone Grazie, accetto Prego La incontrai per casa a Messina, proveniva da carica a te Prese posta sulla litorina che partiva a crevita quel dì Al mio sguardo peggiere e palice non mi disse né no e né sì Allora io col mio nobile inglese sottovoce le dissi così Miss, mia cara miss, l'uvo palizzo diventa per te Miss, mia dolce miss, scava ma fosse che mora per te Perdonami seccandoti quell'aria che sei tu Il cantico dei cantici nel blu dipinto di blu A scuola A scuola A scuola Te posti l'ammazzate Umberto del Prete Grazie, grazie, io vi ringrazio, grazie a tutti Grazie, grazie Umberto Spero avremo modo di rincontrarci in qualche altra occasione in questa edizione di Mille Voci Ma sicuramente Perché è stato veramente una chicca e un piacere averti ospite in questa edizione Grazie, grazie Dov'è l'uscita? Dov'è l'uscita? Ecco qua Umberto del Prete